Immaginiotta durante l'incontro tra asilo e famiglie e così l'open day online è diventato a luci rosse lasciando tutti di stucco. Lo spiacevole episodio è successo sabato mattina, durante la riunione tra l'istituto Ritalevi Montalcini di Lucignano e le famiglie in collegamento sulla piattaforma Google Meet. Ad un certo punto, infatti, alcuni ignoti hanno condiviso video pornografici visibili a tutti i partecipanti e così, mentre alcuni insegnanti stavano mostrando l'offerta didattica e gli ambienti delle scuole materne, sono apparse davanti ai genitori allibiti, alcuni anche con il figlioletto in braccio, le immagini hot. La riunione è stata così immediatamente interrotta per un'intrusione nel sistema informatico da parte di sconosciuti e la dirigente scolastica ha presentato denuncia alla polizia postale. Gli autori adesso rischiano pesanti accuse dalla diffusione di materiale pornografico all'interruzione di pubblico servizio. Per i prossimi incontri, infine, sono state prese delle precauzioni dall'istituto scolastico e sarà inviato il link del meeting via email per evitare così brutte sorprese.